Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come sbloccare, potenziare e personalizzare le armature, le armi e gli accessori in Ghost of Tsushima. Salendo di livello ottenete punti esperienza, punti che possono essere spesi per l'acquisto di nuove abilità, samurai, forme e spettro. Sbloccherete nel corso del gioco anche armature, armi, accessori e quanto altro ancora. Nella mappa, se esplorate la mappa, quando sbloccate un racconto, se vi posizionate sul racconto, come potete vedere vi sono delle ricompense. Ogni racconto, oltre un incremento della leggenda, quindi punti esperienza che vi servono per passare di grado in grado, vi permettono di ottenere oggetti esclusivi, equipaggiamenti esclusivi, armi esclusive o, il più delle volte, anche abilità, come il colpo celestiale. Quindi, quando giocate, tenete bene a mente questa cosa, perché alcune missioni, tipo questa, vi permettono di sbloccare, ad esempio, l'uniforme da Ronin, l'arco, i gunai e così via dicendo. Quindi, per ottenere nuovi equipaggiamenti, dovete completare le missioni che vi permettono, appunto, di riceverli come ricompensa. Oppure, li trovate in giro per la mappa, esplorando i vari luoghi, e per quanto riguarda le personalizzazioni, come vi ho detto, potenziando il vento della vanità, avete modo di trovare nuove personalizzazioni. Tuttavia, per migliorare gli equipaggiamenti, per personalizzarvi e così via dicendo, avrete bisogno dei commercianti. Nel corso del gioco vi imbatterete in diversi commercianti. Presso il tempio dorato potete trovare l'altare del dono, dove riscattare nuovi regali, la costruttrice di archi, dove potenziare l'arco, lo spadaio per affilare la spada e l'armaiola per personalizzare, migliorare le armi. Inoltre, avete la possibilità, in altri avamposti, di imbattervi in commercianti differenti, come il venditore tradizionale e il cacciatore. Ora, mi recherò con il viaggio rapido al tempio dorato per mostrarvi, appunto, questi venditori. Al tempio dorato potete riscattare nuove ricompense da qui, quindi quando diciamo, il gioco vi dice, avete sbloccato un nuovo dono, venite qui e lo raccogliete. Potrebbero essere doni estetici come la maschera da samurai. Dialogando con i vari commercianti potete, come vi ho detto, personalizzare e potenziare il vostro equipaggiamento. Dallo spadaio avete modo di potenziare sia il pugnale che la katana, raccogliendo provviste ferro, acciaio e oro. Quindi dovete raccogliere ogni cosa vi capiti a tiro perché potete potenziare e migliorare l'arma fino a fare così tanti danni da uccidere i nemici facilmente. Poi abbiamo la venditrice, la commerciante, o meglio l'armaiola, di armature e vesti. Nel corso del gioco potete ottenere nuove armature e vesti che non conferiscono solo un aspetto migliore al vostro personaggio, ma anche, diciamo, delle agevolazioni come l'aumento della salute, la riduzione dei danni e così via dicendo. E poi vi è il venditore del... se lo trovo... perché qui, diciamo, trovate questi venditori, ma se esplorate la mappa vi imbattete anche in altri venditori. Qui dovreste trovare anche, ecco, un altro venditore che è quello degli archi. Potete acquistare gli archi, potenziarli per incrementare le statistiche come danni, velocità di tensione, gittata, stabilità, velocità di ricarica e ingrandimento. Quindi, sostanzialmente, esplorate, esplorate ed esplorate, prendete tutto quello che trovate e venite qua per potenziarvi e migliorarvi o personalizzarvi l'aspetto del personaggio.